Ciao Des Video, oggi daremo una prima occhiata veloce a questo gioco che si chiama Lakeview Cabin che mi ha regalato Manuel Sì e che ringrazio tantissimo Allora, vediamo un po' sembra, boh, sono l'uscita di un carcere, quello che è, boh, adesso andiamo posso andare, ah, solo a destra posso andare, Z ah, ah, mette la cassetta in testa così non gli piove in testa, giusto e lì? c'è quel tizio? la barra cosa fa? cos'è? cosa succede se schiaccia la barra? ah, posso cambiare personaggio? che spettacolo Lakeview Cabin 6 sì, sì, ma ritorniamo, ritorniamo qua ragazzi perché prima dobbiamo capire un po' com'è la storia horror fest Lakeview Cabin 3, 4, 5, 6 allora, tieni premuto se vuoi sbirciare, ok the sewers scream at me wow, quel tipo impiccato, mamma mia aiuto, che succede? Lakeview Cabin 3 guardiamo cos'è questo nero? ah Lakeview Cabin 3 no, ma io voglio giocare all'1 veramente e si può cambiare o meno sì, ma devo ancora capire ok ci sto capendo a niente e voglio un momento di artente no, dimmi che si può guidare questo dai, che spettacolo ops cos'è? si è cagato addosso, non ho capito cos'è aspetta eh riproviamo X dai, vai, parti spettacolo eh, vabbè, qualche incidente mi sembrava di essere in Happy Wheels allora, io direi di prendere un altro personaggio ma cos'è? li ho tutti ammazzati non ho mica capito cos'è sta cosa ma sono tutti un po' insanguinati X cosa fa? ma sei denudato no, 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 rivestiti ah, 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 ah ah, io ma voglio sapere quello là è morto morto Z ah ah, quindi no, non ho capito lo possiamo salvare o aspetta eh scusi eh Z lo metto sulla canoa no no dove è andato la volevo io lo volevo salvare come faccio riesco a salvarlo in qualche maniera io ti salverò io ti salverò ragazzi questo fiume questo fiume è molto lungo cos'è? ma che succede? mamma mia un tranquillo gioco di paura ah, allora questo è vivo sembrava morto andiamo sul ponte sali X ma no non voglio spogliarmi ma sta venendo notte ma boh questo qua si può prendere in mano questa bestia sì ho preso la bestia in mano ok cosa ci facciamo con questo cagnolino? eh boh no no poverino prendilo 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 sarà mica morto non puoi scecare è entrato sta dormendo? è a letto? dormi? passerà il tempo ah mi devo spogliare per andare a letto giustamente ecco ora vestiti vestiti come si faceva? qua Z no aiuto tu il tuo cane e i tuoi amici sono morti come primo inizio di questo gioco grazie Emanuele Sire grazie tante mi sa che mi divertirò molto non ci ho capito un cavolo ma comunque vedrete mi vedrete in un altro video magari riuscirò a combinare qualcosa ciao da sfide ciao 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 Grazie.